Ok, partenza arrivata per questa prima volta di una serie, un giro sull'inter. La ferita del 2-2, questo momento in battaglio, sulle sue ore colline, ma ragazzi con la lunga, che è la metà del percorso, vediamo adesso, percorso, in battaglio del giro contatto. Siamo verso il finale di questa prima volta di, di segno a fede, la ferita del 2-2, questo è un vantaggio, il 3-9 perché chiude, la ferita del 2-3 a 5. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.